Due incidenti stradali si sono verificati fra sabato e la notte di domenica nel Novarese, rispettivamente a Novara e l'ESA. In entrambi i casi sono rimasti coinvolti dei centauri che hanno riportato ferite da codice rosso. Il primo, si è verificato all'1.30 circa della notte di domenica 26 maggio in Viale Giulio Cesare a Novara ed ha visto coinvolti un'auto educa. Un omaggio a tutti i vincitori e agli equipaggi di 60 edizioni del rally più bello, ingresso libero e la possibilità di apericena con prenotazione. Vi aspettiamo!